Io credo che oggi il futuro passa attraverso la digitalizzazione, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto in questi due anni purtroppo di pandemia, quindi un'evoluzione importante della vita di tutti noi, della società e delle aziende stesse. Però senza dimenticare che al centro di tutto c'è l'uomo, c'è la persona, perché senza di questo potremmo fare qualsiasi cosa virtuale ma non resisterebbe nulla. Dovremmo solo capire come integrarla in maniera strutturale, in maniera efficiente, in maniera corretta e seria nel più modo possibile e farla entrare nella vita dei cittadini più comuni e quindi anche nella pubblica amministrazione, perché se questo avviene avremo sicuramente delle modalità molto più snelle, molto più operative, però alcuni aspetti molto più certi.